ok ok cari amici siamo di nuovo qui pronti per un altro episodio di questo nuovo giochetto che spero che vi sia piaciuto in teoria non ci dovrebbero essere i problemi tecnici dell'altra volta l'illuminazione come vedete bella potente forse anche troppo fatevelo poi sapere nei commenti io spero che voi stiate tutti bene e tra poco dovrebbe raggiungere il mio ospite intanto mi raccomando anzi prima vi ringrazio del fatto che continuate a seguirmi vi raccomando di restare sempre in campana per sapere quando escono i prossimi video e vi invito ancora una volta a iscrivervi cioè a contattarmi per iscrivervi e poter partecipare a questo nostro nuovo gioco vediamo se nel frattempo arriva il mio ospite voi come state spero bene no sì sicuramente state bene dai qui il freddo un po se n'è andato settimana prossima ci siamo ragazzi è arrivato lumino in rosso col pancione vestito di bianco ci verrà trovare siete stati bravi avrete fatto regali a sufficienza io per fortuna non ho questo problema non devo fare regali a nessuno mi sono fatto i regali a me stesso e sì vabbè forse un regalino qualcuno lo faccio vediamo c'è ancora un po di tempo qualche giorno per pensarsi va bene e attendiamo a vedo 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 che è arrivato e allora andiamo abbassiamo il volume buonasera come va bene abbasso il volume che sono entrato ma dove sei sono sei a parlare sono tre leoni cosa mai potrebbe mai andare male sono a carara e niente spero che questa volta i problemi tecnici siano superati se vorrebbe di sì sembra di sì abbiamo anche l'illuminazione più potente finalmente forse un po troppo no da me va bene no si sa mai bambini bambini intanto ti ringrazio di essere stato curioso di voler partecipare a questo giochetto alla cieca purtroppo non sono riuscito a vedere il primo episodio così ci piace vabbè ma un triangolo no cosa può andare storto circondato delle uni guarda così dove arriva hai detto che arriva anche una tua amica no hai detto no 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 quella forse viene da trovarmi dopo finita no no scherzo triangolo no vabbè allora non è un triangolo nella linea retta quello lì vabbè allora vediamo di fare i seri su via si beva il caffettino e io nel frattempo e acqua disidratato e nel frattempo se sei d'accordo mando la sigla e poi ti spiego com'è andiamo ok ma ora sigla audio junkie 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 video per ogni triangolo ci sono tre parole tu dovrai dirmi quale di questa di queste parole non c'entra nulla e perché non c'entra nulla quindi quale è il terzo incomodo per quante cose una cosa rilassata devo accendere devo accendere i neuroni quindi dovresti se riesci anche a prendere carta e penna se ce l'hai carta va bene va bene anche cartoncino cartoncino qua questo è usato perché dietro anche questo e tu svederai che tu risolverai si nasconde anche una lettera alla fine verrà scritta una parola quando svolgerai tutti i triangoli te giochi troppo i giochi di ruolo e te li tolgo quei giochi allora dietro ogni triangolo che tu svolgerai c'è una lettera dietro questi quindi alla fine si formerà una parola alla fine di tutto questo dovrei dirmi con questa parola altre due parole formando però questa volta un triangolo perfetto ovvero senza l'intruso che c'entrano con loro senza l'intruso tutto questo lo cronometro lo cronometre mamma mia dico adesso mi rilasso e metto qui invece no tutto questo lo cronometre no perché poi farò una classifica tra tutti i giocatori ci sarà una finale si potrà vincere un premio quale premio sarà lo dirò poi più avanti ecco quindi pure questo rimane un'ingognita certo che gusto c'è poi tra l'altro se per caso ce l'hai servirebbe un dado non quello da brodo ma quello da gioco ciò questo qua no non ce l'ho il dato c'è un dado per il brodo però di là lo potrai lanciare virtualmente sul telefonino digitando lancia un dato per lo troviamo sul computer lancia un dado lo preparo non adesso lo prepari per dopo perché andando da solo vabbè ok ma allora ripeto tutto e poi si parte ogni triangolo voleva la cuffia ci voleva che ogni triangolo ha tre definizioni una non c'entra niente devi spiegarmi qual è la straniera e perché alla fine devi dirmi tenendo conto delle lettere che ti dirò che parola c'è sotto i triangoli e mi dovrai con questa parola formare un triangolo perfetto senza l'estraneo allora se ci sei l'aiuto da casa a ogni volta di volta in volta mi devi dire il colore del triangolo come vuoi perché puoi saltare come vuoi no tanto e 50 e 50 è un incontro allora io direi l'accendiamo 3 2 1 vai dimmi triangolo verde che mi piace verde allora cominciamo e lucas king perché uno scrittore è uno scrittore gli altri due sono registi dietro questa lettera c'è dietro questo triangolo c'è la lettera i scusa ma ok è fatto ok vai prossimo è giallo così ok ancona macerata civita vecchia civita vecchia perché dall'altra parte è a destra e gli altri sono a dovest ottimo questa lettera è la a a di alessandro allora blu cico di gmail lotta lotta immagino perché comunque fa parte di un altro pubblico che mandra che bravo lettera nascosta di di domodossola prossimo è rosso rosso barolo chianti risling risling perché perché gli altri due sono vini anche un vino vabbè perché uno o due sono italiani e l'altro invece estero va bene ci sta anche prossimo allora la lettera qua quale alla lettera bravo scusa eravamo al rosso al rosso m il verde letto il nero vediamo un po oncia sterlina chilometro e il chilometro perché non è un'unità di misura inglese o ammarcana ottimo lettera nascosta g da migella no vabbè ok allora viola allora mi già mai a maori maori perché non c'entra niente con sudamerica bravo lettera nascosta i damigiana prima di rifare i triangoli ok andiamo col grigio allora 0 883 il volo il volo perché non ha un nome che è un numero ok ci potrebbe anche stare anche 0 vabbè a a non l'avrei mai detto a marrone non l'avrei mai detto bella da rosna kilmer questa è difficile allora no aspetta kilmer perché perché non è mai stato 007 grande lettera n bianco full tris cinquina cinquina perché non c'entra niente col poker ottimo lettera a quindi la parola damigiana perché perché ho fatto l'alpino ok adesso dimmi un triangolo perfetto con dal cacchio qui qua e qua no no con la parola damigiana ma con la parola damigiana e si è e ci c'è anche damigiana dentro così si è diventata da amigiana vino cantina ottimo wow niente male sei mostruoso hai bruciato manuel ma io ma io per solo possono roba da rilassarsi non da vedi c'ho anche vedi mi sono messo allora da dove la domino coluna sai quanto tempo ci hai messo 3 minuti 49 secondi e 66 primi sarà dura litigare con bene culturale istruisce sarà dura batterti beh questo era il giochetto molto veloce forse troppo veloce però è un esperimento no beh carino carino però tu hai scelto damigiana perché ho fatto l'alpino non so che casuale io qua ne ho altri quattro in ordine di preparazione comunque io ti ringrazio per aver partecipato dico grazie a te di se non ti conoscono andare a visitare il tuo canale metterò ovviamente un'altra volta il link qua sotto di restare come sempre dico in campana per sapere i prossimi video e noi magari ci intratteniamo un attimo ancora se sai qualche minuto e mi raccomando ragazzi ho bisogno di voi come vedete una cosa molto veloce 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 come diceva negli anni 80 ezio greggio da lecarsi le orecchie e quindi dai venite a partecipare che poi facciamo una bella finale magari possiamo fare più serie visto che va veloce possiamo fare più più edizioni chiamiamole così hai capito beh più stagione ragazzi io vi saluto alessandro vi saluta noi ci salutiamo dopo alla prossima ciao ragazzi buon natale buon natale meray christmas ciao ciao Grazie per la visione!